Eccoci di nuovo in studio e come abbiamo preannunciato un paio di volte anche nelle ultime battute che abbiamo fatto col magnifico rettore, siamo in studio col sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, buongiorno sindaco Buongiorno a voi, come va? Bene, grazie, in questi tempi la salute già non è poco è fondamentale, il 26 gennaio è nato il 26 gennaio il sindaco Ucchielli acquario, giusto? Dico bene? Sì e ho fatto una ricerca sul nome perché il nome Palmiro è un nome particolare non è frequentissimo significa città delle palme città delle palme era una città della Siria tra l'altro che è stata distrutta dagli arabi nel VIII secolo, per cui niente di recente non è una di quelle finite in mezzo alle guerre recenti sindaco di Vallefoglia da maggio 2014, riconfermato nel 2019, va sottolineato in precedenza sindaco di Colbordolo nel 77, consigliere assessore provinciale dall'85 al 91, deputato nel 94, senatore nel 96 e presidente della provincia di Pesaro Rubino dal 99 al 2009 un curriculum niente male direi e poi ho fatto una sintesi perché se dovevo andare con tutto quello che si trova e che si trova su internet ma che già insomma probabilmente avrei concluso la puntata solo facendo l'elenco si sente il peso di questa storia personale? Ma no ho fatto tutto quello che ho fatto nella vita le grandi opportunità che ho avuto diciamo con sempre grande passione con grande impegno con sedietà con onestà con un rapporto quotidiano con le persone con i cittadini e quindi non mi è assolutamente pesato nulla anzi faccio ancora il lavoro di sindaco di presidente dell'Unione dei Comuni e con la passione con la quale ho cominciato perché la politica è servizio e abnegazione e passione è spirito di cooperazione e collaborazione grande capacità di sintesi di impegno io lo faccio come se avessi un terzo degli anni che ho insomma il tempo passa però lo faccio con la stessa con la stessa grinta la stessa passione e lo stesso impegno che è che è diciamo pesante perché se uno fa la vita politica la vita pubblica con serietà non lo fa qualche ora per farlo lo fa per fare per davvero il suo lavoro è veramente impegnativo però uno non può far finta o le fa le cose o non le fa e io cerco di farle al meglio la città di Vallefoglia nasce dall'unione di due comuni Sontangelo in Lizzola e Colbordolo a Colbordolo Palmini Rucchielli è stato sindaco nel 77 ritorna sul territorio dopo aver fatto comunque tante altre cose appunto nella provincia e questo territorio come lo trova? lo trova cambiato è voluto è involuto meglio o peggio? Cosa succede? Beh io ho fatto tante cose per caso quelli che magari hanno da ridire dicono che ho programmato tutto nella mia vita in verità sono capitato anche adesso diciamo per caso a fare il sindaco di questa città ed è molto affascinante perché sono due escomuni che hanno una storia gloriosa gli ho trovati la parte ambientale storico-culturale perché no turistica molto importante affascinante integra come era anni e anni e anni fa e direi che ha una centralità importante che stiamo cercando di dare a Vallefoglia perché è una città nuova tra peso Urbino e Romagna non è facile ricavarsi un ruolo importante centrale però lì gli ingredienti ci sono tutti ci sono gli ingredienti delle attività economiche produttive perché Montecchio di Vallefoglia è il cuore di una città di 50.000 abitanti con altri 50.000 che sono fluttuanti che vengono a lavorare nelle fabbriche nei supermercati nei centri commerciali nelle banche nelle attività di tutela della salute quindi c'è un movimento veramente importante le radici storiche sono radici di carattere di caratura nazionale di tutto riguardo insomma da Giovanni Santi pittore padre di Raffaello a Girola Mogenga al Conte Paciotti architetto militare che progettava le città sicure per fermarmi a Colbordolo l'ex comune di Colbordolo per arrivare poi a Terenzo Mamiani ministro del governo Cavour personaggio di carattura nazionale a Costanza Monti a Giovanni Branca a Giulio Perticari insomma radici che ci legano fortemente alla città d'Urbino e alla città di Pesaro con Rossini Rossini Opera Festival i legami tra Giulio Perticari e Rossini diciamo i momenti di Rossini al fortepiano che è nella chiesa di Sant'Egidio insomma sono legami importanti e poi diciamo un paesaggio che è rimasto integro veramente straordinario un ambiente da tutelare e conservare e nonostante la città industriale perché è una delle città industriali più importanti dei poli più importanti delle macchine mi raccomando il microfono e diciamo anche dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico della tutela della salute un centro ben conservato infatti era lì che volevo arrivare ma prima mi viene una curiosità non è che è capitato magari in questo mandato appunto 2014-2019 di andare a vedere una cosa e dire ostia questa l'avevo fatta proprio bene nel 77 perché quando era sindaco nel 77 ritrovarsi diciamo come patrimonio positivo qualcosa che era stato fatto oppure magari invece essere in difficoltà per qualcosa che quella volta si poteva fare e non era stato fatto no non è successo ma sempre si può fare di più e meglio io le cose sono state fatte tante ne abbiamo in corso tantissime è difficile ricordare tutto e di più penso alla depurazione delle acque quando le attività produttive scaricavano i fiumi facemmo un primo depuratore che oggi miglioreremo la depurazione delle acque a Montecchio per tutta la vallata con il raddoppio del depuratore di Montecchio oppure ecco le attività sportive noi abbiamo una squadra in serie A di gioco delle bocce sono stati campioni italiani e un impianto non solo in serie A proprio un impianto di una dimensione dove si gioca in sintetico mi ricordo il povero vescovo di Urbino Monsignor Bianchi che disse lì eravamo abituati a giocare il gioco delle bocce nell'aia dall'aia al biliardo il sintetico perché il sintetico e quello fu uno degli impianti più importanti quindi diciamo alle scuole penso la scuola progettata all'interstudio con l'architetto giapponile Watanabe con l'ingegnere Ripanti e Vecchi che progettarono un'opera d'arte per la verità se uno la va a vedere la scuola elementare è materna con l'anfiteatro con l'aula magna insomma parliamo di 30-40 anni fa tutte cose che a Colbordolo insomma erano avveniristiche e quindi diciamo che sono state cose veramente importanti e affascinanti che che rifarei insomma io non sono pentito di nulla di tutto quello che ho fatto nella mia vita che non vuol dire che si sono fatti anche degli errori perché chi non fa non sbaglia sicuro chi fa il tema del momento adesso è questo della salute chiaramente è la salute legata al covid è la prima cosa che ci viene in mente però la salute era un tema anche di prima del covid non è un tema nuovo la salute è legata a tante cose che hanno a che fare con per esempio appunto la depurazione delle acque con questo tema controverso del digestore so che ci sono dei tentativi di affrontare la cosa in maniera seria magari rivolgendosi abbiamo sentito poco fa il magnifico rettore Giorgio Calcagnini rivolgendosi anche a chi magari potrebbe dare una voce terza relativamente a questi temi rispetto alla politica collaborazioni anche con l'università in questo senso con degli studi che possono fare delle ricerche approfondite giusto? ma io sono cresciuto nella vita politica e amministrativa con due grandi leggi una è la riforma sanitaria la 833 degli anni 70-80 che era tutta basata sulla prevenzione io ho lavorato in fabbrica per chi sa non ho fatto solo molte cose politiche ho lavorato 17 lunghi anni in fabbrica ho cominciato da 13 anni e tutta la battaglia che feci nei luoghi di lavoro era a tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici la medicina preventiva nei luoghi di lavoro la sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi questa legge di riforma è una legge delle più avanzate d'Europa e del mondo che è tutta basata su come prevenire i mali non come curarli perché si risparmia anche una barca di quattrini per venire i mali l'altra era quella sulla pianificazione urbanistica e territoriale la cosiddetta legge 10 legge Bucalossi che portò diciamo una crescita civile perché quando tu ritiri la prima concessione di l'inizia paghi ma paghi per avere l'asilo nido per avere la scuola materna per avere le fognature la depurazione per avere tutti i servizi che una città moderna innovativa ha quindi diciamo che la tutela della salute è al primo posto poi è chiaro che quando tu ti trovi una città industriale come Torino come Brindisi come le grandi città dove c'è la piena occupazione ci sono anche le contraddizioni perché è chiaro che le fabbriche portano anche una movimentazione di tante macchine c'è una diseducazione all'uso del mezzo pubblico tanto meno del treno o degli autobus tutti vanno con la macchina loro e dove ci sono le merci ci sono anche diciamo mobilità su gomma e quindi ci sono i camion ci sono gli autotrasporti diciamo importanti che creano le loro difficoltà e però sai tutto nella vita non si può avere certo soprattutto è difficilissimo tenere i compartimenti separati cioè alla fine il tema della salute è un tema talmente trasversale che appunto si in qualche modo coinvolge tutto quanto per esempio il discorso dei mezzi dei mezzi pubblici a parte che in questo momento il mezzo pubblico chiaramente soffre particolarmente perché deve stare dentro delle restrizioni però investire nel discorso del mezzo pubblico è un po' un investire in fiducia questo tema del treno del trenino del recupero del treno che porta Urbino con questa idea di allargarsi anche a Vallefoglia va in questa direzione noi stiamo cercando con i sindacati delle imprese e dei lavoratori di costruire una sintesi diversa per educare all'uso del mezzo pubblico cioè ridurre l'inquinamento atmosferico significa far girare meno camion e meno macchine significa farne un uso del mezzo pubblico molto più di quanto non avviene oggi significa far fare magari alle aziende gli abbonamenti magari pagandone una parte ai lavoratori per incentivarli a prendere l'autobus piuttosto che l'auto e significa fare come in altri luoghi noi abbiamo lanciato un'idea che è quella di una metropolitana fuoriterra Pesaro Fano Urbino Vallefoglia Pesaro cioè dove potrebbero viaggiare per il turismo per l'università per le scuole superiori ma anche per le merci un buon 80% dell'economia della provincia c'è già uno studio un'ipotesi di studio di fattibilità approvata al Senato abbiamo chiesto di allargarla insieme nel territorio bisogna non solo cooperare unire le forze le energie in una fase storica come questa evitare polemiche strumentali inutili che non servono a nessuno nei momenti in cui c'è la bonaccia si può far tutto ma questo è un periodo molto difficile noi viviamo una crisi economica pesante e c'è una crisi drammatica col covid e la tutela della salute delle persone e se siamo bravi tiriamo tutti dalla stessa parte se lavoriamo con intelligenza e con una forte coesione possiamo rilanciare un progetto e venire fuori come succede come hanno sempre raccontato i grandi intellettori e uscire più forti di prima bisogna imparare la lezione metterla da parte e rilanciare e guardare al futuro con fiducia e con speranza con combattività e con un spirito di collaborazione e di cooperazione che non c'è mai stata in Italia io mi ricordo nel periodo storico degli anni 70-80 quella fase di unità nazionale fra due grandi statisti come furono Moro e Berlinguer e l'unità nazionale io penso che questo sia un momento davvero di grande coesione di grande unità lo raccontava ieri sera la sua idea del pianeta il Papa che è un uomo coraggioso che sa andare controcorrente questa è una fase in cui tutti uniti dobbiamo andare controcorrente è un problema anche di persone perché i nomi che sono stati fatti insomma a cercarli oggi ci potrebbe essere un po' di difficoltà a trovarne di pari livello e volevo tornare sul treno perché io sono abbastanza anziano da esserci stato su quel famoso treno che andava fino a Urbino era un treno per chi non aveva fretta diciamocelo chiaro insomma ci metteva veramente tanto nonostante le strade quella volta non fossero le strade di oggi è anche vero che le strade quella volta non erano le strade di oggi ma non c'erano i limiti di velocità e tutti i ralentamenti e tutte le difficoltà per cui diciamo che quella volta in macchina era più un'avventura ma ci stava il treno funzionava e va bene oggi di questo treno di questo recupero del treno che se invece di chiamarlo treno lo chiamiamo metropolitana di superficie mette meno paura se ne parla se ne parla ogni tanto se ne parla Vallefoglia sale sul treno in corsa oppure insomma questo tema del treno e di questo anello è un tema tecnico o è un tema politico ma è un tema squisitamente politico io penso che questa è una fase storica di grandi opportunità io non salgo sul treno salgo sul treno o sull'autobus perché sono uno che vuole evitare di inquinare il sindaco cucchiali me la farà pagare io penso che sia buona la domanda nel senso che è una progettualità futura se noi giriamo in giro per l'Europa e per il mondo ci sono esperienze di questo genere in una due ballate dove c'è l'80% dell'economia fare un studio di fattibilità per vedere se conviene secondo me è interessante noi siamo in una fase che arriveranno tanti di quei soldi se la smetto di fare le polemiche tra la maggioranza che governa la maggioranza dell'opposizione sembrano i bambini mi dice mia suocera che c'ha 93 anni e c'ha ragione se la piantassero e cominciassero a progettare il futuro dei prossimi 20-30 anni in Italia grazie a questa disgrazia che è il Covid l'Europa sta mettendo tanti di quei soldi in Italia e anche in altri paesi europei che non avrebbe mai messo nella maniera più assoluta seppur in deficit lo Stato nazionale sta mettendo una caterva di soldi allora se abbiamo i progetti perché nella mia esperienza che non è breve di questi anni delle cose che ho fatto cosa viene fuori viene fuori che se uno ha le idee chiare sa dove andare a parare e ha i progetti fatti bene i soldi li trovo io li ho sempre trovati per fare tutte le cose ho avuto modo anche alla vostra televisione di raccontare tutto quello che abbiamo fatto e tutto quello che abbiamo in corso abbiamo in corso quest'anno il nuovo Palastetto dello Sport abbiamo un teatro nuovo abbiamo il comune nuovo abbiamo inaugurato e abbiamo da inaugurare il nuovo teatro Branca Sant'Angelo in Lissola cioè voglio dire bisogna sapere cooperare bisogna sapere unire bisogna sapere essere coesi in questa fase per portare a casa i risultati questo è uno dei risultati più affascinanti e più opportuni e convenienti e più ecologico possibile che si possa fare in questa provincia e si può fare se tutti tirano da stessa parte secondo me si può fare è uno dei temi sui quali state sollecitando l'Università di Urbino l'Università di Urbino è un'università del territorio io risulto nato Urbino anche se sono nato in campagna penso che l'Università di Urbino sia uno strumento utile al territorio noi abbiamo l'Università di Urbino nel contratto di fiume di tutti i comuni dell'Unione di Pian del Brusco di questa vallata è importante abbiamo coinvolto l'Università di Urbino in un progetto di ricerca scientifica sull'agroalimentare che ruota attorno la cantina sociale dei Colli Pesaresi di Morciola dove c'erano 40 soci era una cooperativa per far diventare un luogo non solo di vendere i prodotti ma per monitorare la qualità dell'aria e la qualità dell'acqua dell'intera vallata che ha quasi 200.000 abitanti non è una cosa che riguarda solo Valle Foglia l'Università è uno strumento importante anche sull'economia noi abbiamo un centro per l'impiego di Pesaro un punto in formazione e lavoro a Morciola che ha 5 laboratori per la formazione professionale e l'istruzione la formazione il lavoro l'occupazione e la tutela della salute perché se uno ha la pancia piena perché c'è la piena occupazione sta meglio anche di salute noi spendiamo quasi 2 milioni all'anno nelle politiche sociali la gente che non può essere lasciata sola e se tutti hanno l'occupazione il lavoro e questa è la città dove noi lavoriamo per puntare alla piena occupazione quindi il trade union con l'università per noi è molto importante anche con le altre università stiamo costruendo un rapporto con l'università di Ferrara con i comuni di Ravenna i comuni di questo comprensorio questa è la prima unione delle marche ha oltre 150 mila abitanti con 20 mila imprese quindi direi che la politica è anche affascinante se io non fossi ancora affascinato dalla politica chi me lo fa fare oggi lunedì mi sono alzato come tutte le mattine alle 4 e mezzo e finirò a andare a dormire a mezzanotte faccio 13 15 ore al giorno al servizio della mia comunità compreso il sabato e la domenica lo faccio per passione perché penso anche di fare delle cose buone in continuità in questa vallata non chiedo riconoscimenti ne ho già avuti troppi anzi c'è una specie di debito di gratitudine con questa vallata da Pizzero perché mi hanno fatto fare quasi tutto e tutto quello che ho imparato lo metto a frutta e per esempio stiamo preparando una pubblicazione sulle radici storiche della città di Vallefoglia di cui ho già parlato questi 7 personaggi dice che il 7 è anche il numero che porta fortuna che sono danno una caratura nazionale alla città di Vallefoglia che è una città nuova è vero che è il terzo comune della provincia è vero che Montecchio è il perno di un'area più vasta però è tutto da costruire il futuro bene abbiamo concluso anche perché col sindaco Chieli non si finirebbe mai tali e tanti sono gli argomenti del resto esiste un notiziario apposito che si chiama Vallefoglia Magazine in onda su Rossini TV che viene realizzato proprio per dare risalto a tutte le iniziative che vengono messe in atto appunto nella città di Vallefoglia di conseguenza i nostri telespettatori sono informatissimi e oggi lo sono ancora di più perché ci auguriamo di essere riusciti a dare comunque altre immagini che contribuiscano a costruire questa idea che il sindaco Chieli ha di questa sua visione del territorio e anche ad approfondire la conoscenza del personaggio come ci piace sempre fare in queste nostre puntate sono stati con noi oggi il magnifico rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini il sindaco di Vallefoglia Palmiro Chieli abbiamo concluso la nostra diretta grazie sindaco e ritorni pure alle sue altre 10 ore di attività oggi come minimo insomma più o meno ci siamo grazie a lei grazie a Rossini TV grazie a voi è sempre un piacere e grazie a tutti i telespettatori l'appuntamento è per le nostre repliche ma soprattutto per la prossima diretta mercoledì mattina alle 10 grazie e restate sempre all'ascolto e in visione dei programmi di Rossini TV grazie a tutti